Ciao a tutti cari signori di MDN, e benvenuti al 350esimo episodio con lo speciale 350 episodi di Vimile I.C.L., con la richiesta di Cristian Mattia 2004, Danilo Scocci Marro, e Carlo Speciali Buffi. Cominciamo subito con, 1, Cristian Mattia 2004 e Danilo Scocci Marro. Secondo noi, Antonio Preziosi potrebbe presentare il restyling completo di TG2, quest'estate. Riuscirà. Mediaset a creare TG20? Lo scopriremo prossimamente. E poi su canale 20, c'è già TG con 24. E concludiamo il video con, 2, Carlo Speciali Buffi. Se tutti i canali cambiassero? Non si sa. E a proposito caro Carlo, buona fortuna per il tuo futuro. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Grazie a tutti.